ciao sono william bisacchi di blog bisacchi.it oggi risponderò alla domanda che più mi viene posto in assoluto ovvero è meglio un serramento in alluminio o serramento in pvc a questa domanda non esiste una risposta assoluta perché sarebbe come nel campo delle macchine se io ti potessi dire è meglio un fuoristrada piuttosto che uno spider una berlina affinché non ti conosco non so che strada devi fare in quante sei in famiglia quali sono i tuoi gusti non posso rispondere a questa domanda così come un venditore di finestre non può rispondere questa domanda prima di conoscerti prima di farti un po di consulenza proprio per questo ti invito a non richiedere preventivi online con le misure a modi lista della spesa ma incontrare dei consulenti seri che possono andare a fondo alle tue aspettative ai tuoi bisogni a quello che tu desideri ottenere le tue finestre ma anche all'aspetto tecnico alle dimensioni all'esposizione a tutti quei requisiti che un bravo consulente riesce a dare una risposta con il materiale migliore per il tuo caso specifico ma veniamo alla domanda è meglio alluminio pvc in quali casi dovresti preferire un serramento in alluminio primo caso è quando hai dimensioni molto grandi sia in larghezza che in altezza questo perché perché l'alluminio a resistenza meccanica molto più elevata rispetto agli altri materiali e quindi consente di fare dimensioni aperture molto grandi tipo vetrate scorrevole i tre metri quattro metri cinque metri in fissi alti due metri e mezzo due metri e ottanta tre metri questo con l'alluminio di prima qualità lo puoi fare un'altra casistica e quando vuoi serramenti super slim i sermenti minimali sermenti panoramici quando io vado a togliere materiale dal profilo quindi faccio il profilo più sottile possibile e tolgo resistenza meccanica quindi se parto da un materiale che ha già un'ottima resistenza meccanica lo posso fare se parto dal materiale invece un po scarso da questo punto di vista diventa molto difficile a tuo rischio e pericolo un'altra casistica e quando hai esigenze di colorazione molto particolari con l'alluminio puoi verniciare la superficie esterna e interna della finestra di qualsiasi colore in gamma ral o anche in gamma ncs non sei limitato ad esempio dalle pellicole che siano 10 20 30 che siano con l'alluminio puoi fare qualsiasi tipo di colore questo in molte situazioni è un grande vantaggio oltre a poter fare ad esempio anche gli effetti acciaio inox molto molto belli effetto di taglio diciamo che da questo punto di vista qui è un materiale più prestante un altro punto per il quale potresti scegliere un sermento in alluminio è il discorso della durata nel tempo essendo l'alluminio un metallo praticamente indistruttibile la sua durata nel tempo come infisso è molto più elevata di altri materiali quindi quando vuoi durata nel tempo scegli alluminio così come quando vuoi avere un occhio verso l'ambiente verso l'eco sostenibilità l'alluminio materiale completamente riciclabile sostenibile con questo alluminio io posso continuare a fare finestre per sempre per mille anni per duemila anni per centomila anni rifondo riestru viene riestruso rifaccio la finestra rifondo riestruso eccetera eccetera è un circolo virtuoso che continua per sempre quando invece dovresti scegliere gli fissi pvc dovresti scegliere quando prima di tutto una dimensione troppo grandi hai delle dimensioni normali quindi finestre da 80 da un metro da un metro venti altezze normali fino a due metri e venti due metri e trenta dovresti sceglierla quando vuoi contenere i costi inizialmente perché poi comunque nel tempo essendo un materiale che dura di meno rispetto all'alluminio nel tempo ti costerà comunque di più una vita media di una buona finestra di pvc e sui 25 30 anni oppure potresti sceglierla perché ti piace un infisso caldo al tatto il pvc un materiale che è già isolante naturalmente quindi quando io tocco ho sempre una sensazione di calore altro motivo che potresti sceglierlo è perché comunque non ti interessa un infisso che dure 50 60 anni quando ha durato 25 30 anni è già più che sufficiente quindi un infisso che può andare bene in quelle condizioni o ancora quando ho una casa ad esempio che devo affittare non so come me la ridurranno spendo un po di meno e un domani quando la via al fattuario magari lo posso anche cambiare l'infisso a quel punto è meglio la pvc un sermento in alluminio o il legno legno alluminio sarebbe un po sprecato in quella condizione lì altra cosa come manutenzione di fissi che si parla sempre di fissi a zero manutenzione è meglio alluminio o è meglio pvc come discorso di verniciatura sono due aspetti praticamente simili tranne per il discorso delle pellicole perché le pellicole hanno una tempo una durata più limitata rispetto alla verniciatura e varia molto anche in funzione del colore della pellicola che si vada che si va a scegliere invece il discorso di manutenzione quindi una finestra che non cala che la ferramenta chiude sempre bene che è più stabile nell'apertura nella chiusura e tutte queste cose l'alluminio vince a mani basse rispetto al pvc ma a patto che monti una ferramenta come si deve proprietaria dell'alluminio perché se montiamo una ferramenta cosiddetta cava 16 che alla ferramenta che viene usata nel pvc a quel punto non ha nessun senso prendere una finestra in alluminio con la ferramenta del pvc che va a peggiorare tantissimo l'aspetto delle prestazioni e della manutenzione nel tempo discorso durata nel tempo te l'ho già accennato prima l'alluminio dura praticamente il doppio di un infisso in pvc questo proprio perché il materiale l'alluminio stesso è un materiale molto durevole meglio del p dell'alluminio ci sarebbe solo l'acciaio linux l'acciaio linux è diventa veramente eterno ma a quel punto i costi non si parla più di percentuali più ma di due tre volte in più di un serramento in acciaio rispetto a un serramento in alluminio un altro aspetto risparmio energetico meglio pvc o meglio alluminio su prodotti base il pvc ha già un isolamento termico molto efficace per arrivare lo stesso isolamento del pvc l'alluminio ha bisogno di un taglio termico quindi questa parte centrale che separa l'alluminio esterno da quello interno molto prestante a quel punto i due prodotti si vanno a equivalere dal punto di vista dei numeri però che cosa succede un aspetto che nessuno considera siccome pvc si muove di più e tende a spanciare anche la finestra quando una finestra spancia passa anche aria dove passa aria passa il risparmio energetico se ne va praticamente quindi da quel punto di vista lì un infisso alluminio fatto come si deve che con le sue guarnizioni chiude sempre perfettamente è superiore al osservamento in pvc anche se il numero della mano lo dice i seramenti isono uguali e sotto questo aspetto ti invito a considerarlo anche non all'inizio quando le cose va tutto bene ma non mano che passano gli anni che un seramento in alluminio rimane stabile mentre lo seramento in pvc tende a deformarsi questo differenza di prestazioni diventerà sempre più evidente ultimissimo aspetto ok alluminio ok pvc sceglie quello che preferisci in base alle tue esigenze in base a quello che puoi realizzare come dimensione in casa tua ma non ti dimenticare che la pose nova quindi come vengono montati questi infissi inciderà per il 75 per cento dei risultati quindi puoi scegliere anche il miglior rifisso ma se non lo posi bene tutto quello che ti ho detto in questo video andrà praticamente essere annullato da una posa eseguita come si faceva una volta quindi continua a seguire il mio blog leggi tutti gli articoli sulla corretta posa in opera sulle garanzie su come vanno fatti i lavori a regola d'arte non affidarti a un venditore ma fidati a un consulente un consulente esperto anche se oggi tutti si spazzano per consulenti i veri consulenti quelli in gamba si trovano facilmente e sì che si percepisce subito dall'altra parte se una persona competente anche digitando nome e cognome su google si vede la storia che ha fatto quello che ha imparato quello che può fare per te e quello che ha già fatto per le altre persone puoi leggere testimonianze e le recensioni di chi si è già fidato a quella persona e ti invito a farlo prima di scegliere i tuoi nuovi infissi ciao e al prossimo video ciao ciao ciao